Buongiorno a tutti, sono Matteo e il responsabile sviluppo e produzione degli occhiali sportivi Bertoni Aiver. Oggi vi presentiamo il modello D600 con lenti intercambiabili. Questo prodotto è realizzato in nylon TR90LX, un polimero composto da 70% nylon e 30% carbonio. Questa caratteristica rende il prodotto resistente, leggero ed estremamente flessibile. È adatto a tutte le condizioni, dalle alte temperature estive al freddo pungente in inverno. Per migliorare la calzata, il nasello e gli inserti interni sono realizzati in mego l'antiscivolo. La sostituzione è semplificata grazie al sistema brevettato di sgancio. Le astine morbide e sottili sono studiate per agevolare la calzata con qualsiasi tipologia di casco. Questo modello è disponibile nelle seguenti colorazioni. La sostituzione è semplice.